Ma queste elezioni di Giorgia Meloni è un passaggio molto importante nella strategia di crescita internazionale di Fratelli d'Italia. È certamente un premio alla credibilità della nostra leader, ma è anche un riconoscimento del grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni con Fratelli d'Italia a livello europeo e internazionale. Quando abbiamo scelto, ormai da due anni, di accasarci nella famiglia dei conservatori, una delle più storiche e più importanti a livello europeo, insieme ad altri partiti nazionali che condividono con noi i valori della difesa dell'identità, delle sovranità nazionali, della difesa dei confini, della difesa della famiglia come cedula base della società, della difesa di un'economia sociale di mercato, attenta alle ragioni dell'impresa e alle ragioni di chi ha meno. Ecco, questi sono i punti cardine della nostra proposta politica a livello europeo, un'Europa che non vogliamo smontare ma vogliamo fortemente riformare perché siamo critici nei confronti dell'attuale assetto dell'Unione Europea. Ecco, con Giorgia Meloni lavoreremo su questa agenda con dei rapporti internazionali importanti per preparare quella che noi speriamo sia presto, una stagione di governo per Fratelli d'Italia e per il centrodestra italiano. Ma certamente c'è una tensione crescente da parte di tutti i nostri partner europei verso la crescita costante di Fratelli d'Italia e l'affermazione di Giorgia Meloni come leadership carismatica all'interno del centrodestra italiano. Sono stati molto felici di accogliere la sua disponibilità alla presidenza del partito dei conservatori europei perché non è cosa comune che un leader nazionale di partito presti la sua opera e il suo impegno come presidente di un partito europeo. È abbastanza raro e il fatto di aver avuto la disponibilità di Giorgia Meloni è stato sicuramente un punto di forza perché vogliamo insieme rilanciare questa grande famiglia politica che ha a nostro avviso grandi spazi per crescere ancora.